Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di LeonTrip, siamo qui ancora una volta con Need for Speed Shift per andare avanti con la nostra avventura e diciamo che questa volta voglio andare nel mio garage auto per cambiare l'estetica e la vernice di questa Seat Leon Anche bianca, non è male, qua abbiamo lucido, metallico, caramellato, ah ma queste però sono bloccate Facciamo metallico e facciamo colore, che colore, che colore, perché non me le da, ah perché devo fare l'Africa Tutte, ok, finito, va bene ragazzi, così può andare, mamma mia, va bene, cerchioni Cerchioni mi metti questi, magari sono un po' più fashion, thank you, questi invece? Eh, meglio ancora Diametro, mettili da 19 va 20, ok massimo 20, metti il cerchione di tutto chiodo BAM, belli grandi che ci piacciono Eeeh Posizione, ah tutti, anteriore, si ok, basta, basta, basta così Eeeh, aerografie, cos'è sta, aerografie, fabbricazione, ah sarebbero le livree Livree personalizzata, fabbricazione di fabbrica così, ma è orribile Ci sono le livree, allora no, livree no Eeeh, anche se è una livree Aspettate un attimo, fatemi vedere che livree ci sono Questa, che figa però eh Io credo che la migliore, o è questa, o la prima o la seconda Seconda però spacca di brutto, guarda qua È fighissima la seconda Dai, mettiamoci questa, dai Questa livree, no, scusate, metti questa livree qua E va indietro Ma mi costa sta roba? Penso di sì Messa a punto, l'ha messa a punto mi costerà sicuro Vuoi utilizzare le lezioni di messa a punto avanzate? No No, se sono esperti no Ah, ok, ah, bilanciamento, gomme, deportanza, rapporti Ho capito, ho capito, ho capito cos'è Eeeh, modifiche? Ok, qui è possibile migliorare le prestazioni, la manovrabilità e la carrozzeria Ah Scegli tu da dove iniziare Dal motore, turbo Acquista Costa Ora 43.000 Sessioni fase 1, gomme Non bloccate, aerodinamica, carrosseria A riduzione del peso, raga Sì, 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 sì Eeeh, abitacolo, vai Fatti tutto questa roba qua, kit carrozzeria Vai Oh, faccio una salt leon prepotente Cos'è sta roba? Marmitta da gara Eh, vabbè Che fai, non ce la metti? Aumenta turbo Porca miseria, 24.000 aumentare il turbo Ma te che stai scherzando? Pompa freni, ruote, gomme più larghe Ok Poi ragazzi, basta che abbiamo finito i soldi Trasmissione motore Un motore ci sta No, per 500 Sessioni, gomme Vabbè, mettici delle gomme Ok Eeeh, vabbè Basta così per adesso Ragazzi, poi Noi arriviamo una volta che ci facciamo un po' di soldi Allora, accetto Va benissimo Andiamo in carriera E continuiamo con la nostra carriera Eravamo qua Perché l'altra per sbloccarla ci vogliono le stellette E andiamo a fare il terzo A London River Dette gli evento Fatemi vedere Premi fino a posto 4.000 Va bene Voglio appunti, non so che cacchio sia Va bene E questo va Vai Scopriremo questa soglia Da stellette Dovremo raggiungere un certo punteggio Per sbloccare quelle due stellette extra Però sono semplici Credo Vai Facciamo farlo Questo Forza, 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 forza Tagli sta roba Perché tutte le volte mi devi far vedere Però è figa la macchina così E' qua Omo Vai Ok Perfetto Ora guarda Ok qua c'è già una tuba prepotente Di tutti Aspetta, aspetta Porca miseria Togliti da cazzo Non vedi che Non mi puoi inchiodare così davanti Cioè E' una gara alla fine dei conti Non è che sia Io avevo l'acceleratore Ragazzi lasciato Cioè Non stavo accelerando Stavo rallentando Porca c'è la miseria Questo Pua Figgio sui freni Cacchio figlio Cosa freni Oh cazzo Cosa Ok Ok Volevo 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 Cercare Una Una frenata D'altizio Lo si è capito Però l'ho schioato Cazzo Aspetta Porca c'è la miseria Posso per favore Andare a guidare da solo Sta cosa Avanti All'altro questo è anche un circuito Abbastanza veloce Fermi tu C'è una chicane là C'è una chicane È una chicane quella Fermi tu di quella che C'è una chicane Fermi Chicane Devo superarlo Ma Troppo Che non è stato Va bene Cazzo Scusa Scusa Una svernicchia Facciatina Così Oh Questo mi sta Collato Guarda che non sono concentrato Sulle marce Nessun Tutto il resto Cazzarola Girati Girati Ok Mamma mia Che pilota Fermi tutti Ok Vabbiamo Quello ci stava No Quello era normale Non si fa così Oddio Devo Concentrarmi Sulle marce Sul motore Che sennò Fa un casino Ok Usciamo ad andare Oh Sta sempre davanti Questa Che roba Dai che ne ho di più Abbiamo messo Cazzo Vale anche di qua Così No Non vale Non vale Non vale Fermi tutti Quello era in più ragazzi Fidatemi Ora siamo molto più leggeri Dovremmo riuscire a passargli davanti A questo Eh vedete Era il cofano No Aspetta Non era il cofano No Si era il cofano E poi Magari se cambiassi Anche marcia Prima di andare Molto fuori giri Sarebbe Un'ottima cosa Scusi E basta Una spintarella Così magari Eh Da una mossa Ok Fermi tutti L'abbiamo sverniciato Per esempio Non si imprima Ma ha funzionato Ha funzionato Fermi tutti Siamo sicuri Che abbiamo cambiato le gomme Perché mi sembra di avere Dei pezzi di ghiaccio Al posto dei pneumatici Va bene Eh Taglia il traguardo ragazzi Gara impeccabile La macchina Non si è fatta niente Cioè abbiamo proprio Guardato puliti puliti Guardate qua Eh L'avete visto Proprio una cosa pulitissima Ma si va bene Ma non dici Era Preciso però È preciso Preciso Vedete Non so come Non so come cavolo Faccia il gioco A considerare sta cosa Però preciso Non so Quanto Preciso in che senso Non mi sembrava molto precisa La cosa Comunque Se lo dice lui Io mi fido Ok Ma non si possono togliere Le musiche da sto cacchio Di coso Metti alla prova Un evento di fascia 2 Eh sì Le fascia 2 Aspetta che mi alleno Prima con la fascia 1 Poi la fascia 2 Guarderemo Eventi a invito Ah questi sono i 20 Aspetta aspetta Dopo andiamo a vedere Aspetta aspetta Un momento Indietro Gara Elise Ah non c'ho io Stamacchina però Eh mi serve la Lotus Elise Ma me la da lui O La Lotus ha messo a disposizione Delle Elise Tutti i piloti invitati A questa gara Abbiamo 10 secondi Prima di partire Sì Ok Qui conta solo il pilota Per voi fatti onore La roba Forza Allora Aspetta che provo a ripartire Un po' meglio Verde Via 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 Divertiti Ci siamo partiti Decisamente meglio In scia In scia In scia Ah questo frena Cioè appena mi metto in scia Vedete lì dove ha frenato Proprio figlio C'è la mamma zocco là dentro Aspetta un attimo Ok dovrei riuscire Senza inchiodare le ruote Deve rallentare Cazzo Però la faccio Cioè Appena tocca il freno Questa inchioda Ok Questa l'ho fatta Aspetta un secondo Però Ok Questi giri Sono un po' troppo bassi Per ripartire qua Per ripartire qua però Cazzo L'erba Ok Fermi 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 Era tutto calcolato Per il sorpasso Era tutto calcolato Per il sorpasso Ma che ste cazzo So come ho fatto Ma qualcosa ho fatto E qui conta solo il pilota Avete visto So come ho fatto Cazzo Roba Aspetta Aiuto Panico Disastro Fermi Fermi Basta 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 Ok Sei primo Sei primo Ah mia che sudata Fermi Ok Ho avuto un po' Ogni tanto Il motore fuori giri Ma è normale Deve fare così Ragazzi Ma che ne sapete Voi di guida Il motore deve andare fuori giri Ogni cinque secondi Ehm Però se si va Guarda l'altra curva Non vedo un tubo Porca putta Ma che state scemi Ok No Basta Basta Piano Piano Ok Iniziamo Qua Un po' di gas Qua Un po' di Adesso c'è questa curva Invece no Ok Troppo veloce Sto circuito Però è divertente Fermi tutti Ok Stai calmo Fai la curvina Qua Un po' di freno Un po' di derappata Troppo Troppo Ok Ok Fermi tutti Ce l'ho fatta Dai Ce l'ho fatta Però è 3.24 Ma che cacca Ma dai ragazzi Qua conta solo il pilota E l'auto Vedete Non si è fatta niente Vedete Ci sono i riflessi Quelli che vedete Degli alberi Quelli Precisione Guarda qua che precisione Avete visto Ebbè Prove dominate Questa roba abbiamo fatto Ma non c'è fatto caso Ok Ricompensa per l'aumento di livello Abbiamo guadagnato 30.000 in sponsorizzazioni Ma chi ci sponsorizza da noi Vabbè Faremo la sponsorizzazione Scusa Fermi No Continuo Giro in fuocato Infuocato Un attimo La gara rese Cos'è Un giro in fuocato A Brent E Facciamocelo Sto giro in fuocato Sei in fuocato Siamo stati ospitati a battere dei record sul giro Con questa Ford Focus ST Ah vabbè Se è una Ford Focus Non è che vada Questa cosa Qui c'è un cavallo Ehm Va bene Dobbiamo fare il giro in fuocato ragazzi Facciamoci il giro in fuocato Regola Focus Guarda qua Batti Tempi limiti Sì Come no Non me lo puoi dare già Devo cambiare marcia Scusatemi Tempi Quali sono i tempi Scusatemi Non sto vedendo Cazzo di tempi Wow Ok Ecco come ma Cosa abbiamo tenuto Ok Cambio che qua Devo Fara la curva Ok Va benissimo Non so neanche dove cacchio Devo guardare Guardo la strada Eh ragazzi Spero Due stelle Punta la terza Eh Sarebbe a dire Ah devo girare in 58 Sì come no Giriamo in 58 Vedrai che ci gira in 58 Concentrate 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 Forse qua Forse qua sono un po' lento 51 52 53 4 5 No no Non ce l'ho fatta Che troppo è peggiorato Bene E concentrati ragazzi Sul tempo sul giro Qua bisogna farlo Vai Va 58 Me lo sparo 58 Ok Ok C'è l'attore Basta Cala Ok Sette 53 55 56 Non so se riuscirò mai a farlo 58 Ma io ci provo Cazzo vado fuori Quindi non lo faccio più Bene Così Eh vabbè Vabbè dai Però abbiamo fatto 59 C'era un secondo Vabbè Difficile questa cosa qua Vabbè Il tempo sul giro Vabbè Due ragazzi Due 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 stellette Vanno bene E saltiamo Sì 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 Vabbè Sto bencato Ok Continuiamo E abbiamo anche tempo per l'ultimo No non credo ragazzi Però Vabbè Giro infuocato Due su tre Qua cosa era questo Qua era Eliminatore a giro Ecco Seat Leon Seat Leon Cupra Vabbè ma è un ovale Ragazzi C'è un ovale Seat Leon Se non me ne frega niente Dai che non c'ho tempo Per qua Forza 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 Le giri Evita l'ultima posizione Ok Ah ok Adesso ho capito E che posizione siamo Settimi Ok Ultima posizione Eliminatore Cazzarola Siamo quinti Quindi stiamo bene Ah mi vuole proprio buttare fuori il tizio Avete visto Che bastardi Ok Scusa 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 Ma si incolla E quello è il fatto Quando voi andate Sulla fiancata Dell'auto L'auto A cui vi affiancate Se vi toccate Cioè rimanete proprio Incollati Forte Dai Dai Che sono in testa Quindi non abbiamo problemi Ok ora Solo andare via In seconda In seconda Fino alla fine In terza Dai Fino alla fine Ok Lascia un attimo Si riaccelera Non è difficile questo Ok Si viene in tondo praticamente Aia Appena detto Si lascia Poi si riaccelera Ok Si lascia Riaccelera Così Non è male Dai Abbiamo fatto 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 E' l'ultimo rimasto L'ultima prestazione Grazie Grazie Gentile Vabbè Il cofano è un po' così Va bene Stare sul podio Abbiamo fatto Ragazzi Ok Va bene Stati anche un po' lunghi Quindi Diciamo che ci salutiamo qui Per questo episodio è tutto Ragazzi Ci vediamo la prossima volta Fatemi sempre sapere la vostra Nei commenti Ricordatevi Il like Il condividere il video Solo di supportare il canale Noi come detto Ci vediamo la prossima volta Per questo è tutto Ciao raga Sospettare i cresciuti Regno Anche Ci vediamo la prossima volta Sospettare i coalizzi